Benvenuti alla seconda conferenza del ciclo Young Doctors for Science 2. Questa sera abbiamo Enrico Garaldi che ci parlerà delle simmetrie nella fisica e della loro importanza. Enrico si è laureato in fisica a Modena l'anno scorso con una tesi che c'entra poco con la conferenza di stasera perché il dipartimento di Modena è un dipartimento che si occupa di struttura della materia e la sua tesi riguardava lo stato solido. Però adesso fa fisica teorica all'Università di Bologna quindi ci parlerà degli sviluppi che sta studiando adesso nelle frontiere della fisica teorica. Ricordo un attimo solo gli sponsor che hanno creduto in noi. Ringrazio il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, il Planetario di Modena che ci ha dato la struttura, l'associazione culturale JW da Rapper, l'Università di Modena, il Comune e il Piano Nazionale Lauree Scientifiche per averci dato il patrocinio e dato la possibilità di portare avanti questo progetto. Noi siamo un'associazione culturale appena nata, in cui punto scienze incontriamo la scienza. Ci potete trovare su questi link. Tutte le conferenze vengono registrate, slide più voce, le potete trovare sul canale YouTube dell'associazione, qualche settimana dopo più o meno. Abbiamo anche un blog, blog.incoscienza.org, dove ci sono dei ragazzi che fanno il master in giornalismo scientifico a Padova e a Trieste, che scrivono articoli di divulgazione. Li potete trovare anche una settimana prima, l'audio intervista del relatore successivo. Quindi da domani troverete l'audio intervista dei relatori sulla conferenza su Fibonacci. Adesso non vi rubo altro tempo, lascio la parola a Enrico. Buona conferenza a tutti. Allora, io ho voluto cominciare stasera con una citazione di un premio Nobel per la fisica, Steven Weinberg, che dice a livello più profondo, e si intende a livello più profondo della nostra conoscenza della natura, tutto ciò che troviamo sono le simmetrie e le loro conseguenze. Sarà un po' il filo conduttore di stasera cercare di capire cosa intendesse questo fisico quando ha affermato questa cosa. Allora, per capire però, a fondo diciamo, cosa significa questa citazione, dovremo, prima di tutto, dovremo capire che cos'è una simmetria da un punto di vista più scientifico, qui diciamo fisico-matematico, e poi dovremo capire perché sono importanti nello studio della fisica e quindi della natura. Una volta fatto questo, vedremo qualche esempio per, appunto, capire meglio come le simmetrie hanno influenzato e stanno influenzando la ricerca di nuove leggi naturali, quindi per capire come si comporta la natura a livello più profondo. Allora, cominciamo immediatamente. Se io dico la parola simmetria, diciamo, normalmente si pensa ad una certa figura o quadro, scritto, qualunque cosa, che sia, in qualche modo, regolare. Il concetto di simmetria è, fin dall'antichità, è stato associato a un concetto di perfezione, tant'è che, ad esempio, per i greci il cerchio era la figura perfetta in quanto era, appunto, la figura più simmetrica. Questo concetto ha influenzato molto, tra l'arte, anche la scienza, tant'è che, per fare un esempio, i primi modelli del sistema solare consideravano, o meglio, supponevano che i pianeti si muovessero di moto circolare intorno al Sole. Questo non perché le osservazioni dicessero che i pianeti si muovevano di moto circolare, ma solamente perché i pianeti, quindi qualcosa al di fuori della Terra, che era ritenuto, diciamo, il regno degli dei per i greci o di Dio per i cristiani, era ritenuto, quindi, qualcosa di perfetto e, in quanto perfetto, doveva seguire un cerchio, che era la figura più perfetta. Allora, ci sono tanti tipi di simmetria, soprattutto se noi parliamo di figure geometriche, che è l'ambito in cui la concezione, diciamo, più comune delle simmetrie è vicina alla concezione scientifica, possiamo trovare tanti tipi di simmetria. Qui faccio giusto qualche esempio. Ad esempio, in questa figura vedete quella che si chiama simmetria assiale, cioè ho una farfalla in cui io posso trovare un asse, che qui ho indicato in rosso, lungo il quale io posso piegare questa figura e ottenere due parti che si sovrappongono perfettamente. Oltre a questo tipo di simmetria, che appunto, abbiamo detto, si chiama simmetria assiale, ce ne sono tante altre. Ad esempio, se guardate qui la figura a sinistra, questa è una simmetria che si dice rotazionale, cioè io posso ruotare questa figura intorno al suo centro, di un certo angolo, e alla fine riottengo la stessa figura. Perché? Perché ognuno di questi punti esterni si sovrappone a quello successivo. Ovviamente se io lo ruoto di un angolo opportuno, e alla fine quello che riottengo è la stessa figura. E infine quella che si chiama simmetria centrale, cioè una simmetria in cui io posso prendere ciascun punto di questa figura, farne il simmetrico, cioè rispecchiarlo rispetto al centro della figura, e se faccio quest'operazione per ciascun punto, riottengo la figura iniziale. Allora, quindi in ciascuna di queste figure, diciamo, io posso trovare una trasformazione, che può essere il fatto che io prendo la figura e la ruoto, può essere il fatto che prendo ciascun punto e lo rispecchio rispetto a un punto, rispetto a un asse, e alla fine di questa trasformazione riottengo la figura iniziale. Questo è, diciamo, il concetto scientifico-matematico di simmetria, cioè in matematica una simmetria è una trasformazione sotto la quale un oggetto, qualunque, rimane invariato. Faccio un esempio molto semplice, io prendo una macchia di inchiostro e gli faccio una trasformazione. La trasformazione più semplice è quella di spostarla nello spazio, cioè la prendo da qui e la sposto in alto. Dopodiché, ad esempio, posso anche ruotarla nel frattempo, e quindi ottengo questa figura qui in alto. Allora, le due figure sono però la stessa figura, nel senso che io posso riconoscere quella da cui ho iniziato rispetto al contesto, quindi a ciò che gli sta intorno, ma se io, ad esempio, ritaglio queste due figure, le metto coperte su un tavolo e le mescolo, dopo non so più dire qual è la figura di partenza e qual è la figura di arrivo, proprio perché queste figure sono uguali. Cioè, sotto la trasformazione, lo sposto verso l'alto e lo giro, questa figura rimane invariata. Cioè, possiamo dire che è simmetrica rispetto a questa trasformazione. Allora, io ho fatto l'esempio di una figura geometrica, o meglio, di una macchia di inchiotro, comunque una figura, diciamo, sì, geometrica in qualche modo. Ma il concetto di simmetria, da un punto di vista scientifico, è molto più ampio. In particolare, una simmetria può essere applicata anche alle leggi della fisica. Allora, nel corso di questa serata vedremo meglio cosa vuol dire applicare una simmetria alle leggi della fisica. Però, tanto per darvi un esempio, consideriamo la legge di gravità. Per farla più semplice, il peso di un oggetto. Allora, mettiamo, facciamo un esperimento, prendo una bilancia, peso, che ne so, un vaso, e ottengo che pesa un chilo. Se io aspetto sei mesi, cosa succederà? Succederà che la Terra, nel suo modo di rivoluzione, compie metà della sua orbita e si trova dalla parte opposta rispetto al Sole. Cioè, di fatto viene spostata la posizione della Terra. Cioè, viene spostata la mia posizione, e quindi la posizione della bilancia e del mio vaso. Se ora io torno a pesare il vaso, otterrò di nuovo che pesa un chilo, patto che io non abbia fatto nulla su questo vaso. Quindi posso dire che il peso di un oggetto, e più in generale, la forza di gravità e la legge di gravità, non cambiano se io mi sposto nello spazio. Che è come dire che, molto più semplicemente, se io peso il mio vaso qui, o se lo peso nella stanza di fianco, otterrò esattamente la stessa misura. Allora, si dice che la legge di gravità è invariante per traslazioni. Cioè, se io mi sposto, non cambia il risultato. Per capire, però, in che contesto queste simmetrie si sono andate ad inserire nello studio della fisica, dobbiamo fare un passo indietro, un po' di storia. Torniamo indietro di un secolo. Verso la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, c'era un po' l'idea fra i fisici che si fosse scoperto più o meno tutto. Cioè, l'idea era abbiamo scoperto tutte le leggi più importanti che governano il mondo, ok, c'è qualche dettaglio da sistemare, qualche piccolo esperimento in cui la teoria non coincide con i dati sperimentali, ma tutto sommato si pensava si dovesse semplicemente capire in che maniera applicare le leggi già note. Allora, il problema è che due di questi dettagli hanno portato alla più grande rivoluzione della fisica, in particolare alla relatività di Einstein e alla meccanica quantistica. Allora, non siamo qui per parlare né di relatività né di meccanica quantistica, però, giusto per dare un'idea del contesto in cui ci troviamo, fatemi dire due cose. La relatività prevede alcune cose abbastanza sconcertanti, che sono, ad esempio, il fatto che le lunghezze, quindi lo spazio e il tempo è percepito in maniera diversa a seconda di come io mi muovo. Cioè, io ora mi sto muovendo rispetto a voi, sto camminando, quindi io percepisco il tempo in maniera più lenta rispetto a quello che percepite voi e vedo le lunghezze più accorciate. Ora, ovviamente, alle velocità a cui si può muovere un uomo o per quanto possa andare veloce, questi effetti sono assolutamente invisibili, però ci sono esperimenti e prove sperimentali che effettivamente a velocità vicine a quelle della luce la natura si comporta in questo modo. E poi, l'altra previsione è forse la più famosa di tutta la fisica, quella che dice E uguale a mc quadro, cioè che ci dice che l'energia, che è una cosa molto come posso dire, molto poco concreta, non riusciamo bene a, non possiamo prendere in mano per dire l'energia, insomma, e la massa, che invece è qualcosa di molto più concreto, che di fatto si tratta del peso di un oggetto tutto sommato, sono in realtà due facce della stessa medaglia, cioè si trasformano l'una nell'altra. Allora, come se non bastasse questo a minare le fondamenta della fisica, negli anni successivi si sviluppa la meccanica quantistica, che prevede cose ancora peggiori dal mio punto di vista. Ad esempio, prevede che io non posso sapere contemporaneamente dove si trova un oggetto e con che velocità si muove, o meglio, se io lo voglio sapere, devo accettare di non poterlo sapere con la precisione che voglio, ma la natura stessa mi dà dei limiti, mi dice che se io voglio conoscere sia la posizione sia la velocità di un oggetto, beh, dovrò accettare di conoscerle con poca, fra virgolette, precisione, cioè non posso avere la precisione che voglio. Ma ancora peggio, la meccanica quantistica prevede quella che si chiama sovrapposizione degli stati, cioè il fatto che finché io non guardo un oggetto, ovviamente si parla di oggetti microscopici, finché io non guardo un oggetto questo fa tutto quello che può fare e lo fa contemporaneamente. Sarebbe come dire per tornare diciamo alle dimensioni umane, che finché io non guardo un orologio, beh, le lancette segnano tutte le ore possibili e solamente nel momento in cui io mi volto a guardarlo, allora queste decidono a caso in che posizione andare a mettersi, quindi che ora indicare. Allora, voi capite che queste previsioni così sconcertanti hanno minato le fondamenta della fisica, cioè si è arrivati in un periodo in cui sembrava che non diciamo non fosse più possibile prevedere nulla, sembrava tutta fra virgolette fatica sprecata quella dei fisici, perché comunque non avrebbero potuto predire nulla se io diciamo se un sistema quindi una qualunque cosa fa fra virgolette e quello che gli pare mentre io non la guardo beh io non potrò certo prevedere cosa farà che ne so domani, perché se io per dire appena distolgo lo sguardo questa può fare cose che io non posso prevedere con certezza. Quindi si è avuto un terremoto che è andato a distruggere buona parte delle basi della fisica dell'epoca. Per tranquillizzarvi vi dico che la fisica sia salvata e in realtà il determinismo c'è ancora in una concezione un po' più ampia cioè noi non possiamo prevedere esattamente cosa succederà possiamo prevedere però la probabilità con cui succede una cosa o ne succede un'altra. Ora che siete tranquilli vi posso anche dire che da questo terremoto si è salvato qualcosa e in particolare si sono salvati quelli che si chiamano principi di conservazione o leggi di conservazione cioè sono principi leggi che ci dicono che qualunque cosa succeda al mio sistema il mio sistema significa quello che sto studiando ma può essere da una cosa molto piccola all'intero universo ovviamente dipende quello che io vado a studiare beh qualunque cosa gli succeda ci sono delle certe quantità che si conservano l'esempio forse più famoso ma non è l'unico è la conservazione dell'energia allora cos'è la conservazione dell'energia prendiamo un esempio semplice prendiamo una pallina che si trova sulla cima di una collinetta allora questa pallina solo per il fatto di trovarsi in un punto in alto possiede una certa energia che si chiama energia potenziale scusate energia potenziale cioè è un'energia legata al fatto che questa pallina potrebbe cadere cioè si trova più in alto rispetto al livello del suolo e quindi potrebbe cadere e guadagnare una certa velocità e quindi una certa energia cioè si tratta di un'energia fra virgolette dormiente nel senso che è un'energia posseduta da questa pallina anche se questa pallina non fa niente allora se adesso io spingo la pallina giù per la collina questa comincia a rotolare siccome diminuisce la sua altezza rispetto al terreno questa energia che abbiamo chiamato potenziale diminuirà perché la pallina si avvicina al terreno e diciamo le sue potenzialità di caduta diminuiscono nel senso che anche se cadesse cadrebbe da una da un'altezza più bassa nel contempo però questa pallina comincia a muoversi comincia a rotolare e acquisisce quello che si chiama energia cinetica cioè un'energia legata semplicemente al movimento qualunque corpo si muove possiede una certa energia cinetica alla fine quando questa pallina arriva a terra diciamo a livello del terreno non avrà più energia potenziale perché non può più cadere già nel punto più basso possibile però avrà energia cinetica cioè un'energia legata al movimento bene il principio di conservazione ci dice semplicemente che durante tutto il percorso la somma delle energie quindi l'energia potenziale che aveva all'inizio e che pian piano perde e l'energia cinetica che all'inizio non aveva ma che pian piano acquisisce la loro somma deve rimanere costante cioè l'energia che aveva all'inizio è uguale all'energia che aveva alla fine allora questo è un esempio di principio di conservazione allora voi potreste dire va bene però la conferenza parlava di simmetrie non parlava di principi di conservazione per capire cosa c'entra quello che vi ho appena detto col titolo della conferenza bisogna parlare di Emily Neder Emily Neder è stata probabilmente la più grande matematica di tutti i tempi ovviamente a dirlo non sono io ma è a sua volta uno dei più grandi matematici di tutti i tempi che è David Hilbert vi parlo un attimo della storia di Emily Neder perché è in qualche modo interessante lei nasce in Germania da un padre che era un matematico e lavorava nell'università della sua città natale lei vuole studiare matematica ma quando è diciamo dell'età giusta appena può iscriversi all'università viene rifiutata in quanto donna e le donne erano ritenute inferiori e quindi non in grado di dare contributi significativi alla scienza e questo è interessante cioè è interessante perché uno dice beh la matematica è molto è molto pragmatica se il teorema che hai dimostrato funziona sei bravo fra virgolette se non funziona se hai sbagliato la dimostrazione non sei bravo con molte virgolette ma diciamo dovrebbe essere molto più pragmatica di tante altre scienze eppure anche qui all'epoca ma in parte ancora oggi ci sono molti pregiudizi a dimostrare che comunque gli scienziati sono tutto sommato sono persone umane anche loro non sono immuni dai pregiudizi e da altre cose del genere comunque la storia di Emily Nedra diciamo un lieto fine nel senso che dopo sette anni di tentativi riesce a iscriversi all'università perché cambiano le leggi dello Stato o meglio le leggi dell'università sulla missione e quindi viene viene permesso di iscriversi si laurea e una volta laureata come tanti cerca di avere un impiego accademico quindi di diventare ad esempio assistente di un professore insomma fare carriera fare ricerca purtroppo anche se le è stato permesso di laurearsi non le viene permesso di avere un impiego accademico semplicemente ancora una volta viene ritenuta inferiore e non in grado in quanto donna solamente in quanto donna e non in grado di portare contributi alla scienza lei è molto caparbia per sette anni lavora gratuitamente come assistente appunto di David Hilbert e in questi sette anni ovviamente non viene pagata però si fa conoscere dai matematici dell'epoca e dimostra parecchi teoremi importanti fra cui uno quello che è noto come teorema di Noether che è quello diciamo un punto importante della discussione di stasera adesso vedremo vi dico solo come è andata a finire Emily Noether deve scappare dalla Germania nazista a causa delle leggi razziali arriva in America ma anche in America diciamo viene ritrova gli stessi pregiudizi che pensava di aver lasciato in Germania e quindi anche qui non le verrà mai offerto un posto di lavoro e quindi un impiego accademico in un'università importante e alla fine insegnerà fino alla sua morte in un piccolo collegio tutta al femminile diciamo un collegio non all'altezza della sua fama potremmo dire ma allora vediamo cosa dice questo teorema tanto importante da dargli appunto il nome di teorema di Noether nonostante ce ne fossero molti altri dice una cosa che sembra molto semplice dice ad ogni simmetria di un sistema fisico corrisponde una quantità conservata e viceversa cioè mette insieme i due aspetti che abbiamo discusso finora da una parte le simmetrie che un sistema deve rispettare le simmetrie di un sistema si intende le simmetrie delle leggi che governano come si comporta questo sistema e per ognuna di queste simmetrie c'è una quantità conservata c'è un principio di conservazione allora può sembrare una cosa molto banale ma una profonda ripercussione infatti si c'è un diciamo un cambio di paradigma cambia il modo in cui viene affrontata la scienza e la ricerca di nuove leggi mentre se prima i principi di conservazione sono considerati una diciamo una conseguenza di leggi più profonde cioè io voglio studiare una certa cosa un certo comportamento della natura allora prima vado cerco di capire quali sono delle leggi che io ritengo fondamentali più profonde che regolano che mi dicono come questo sistema si deve comportare e poi eventualmente vado a vedere se per caso queste leggi mi dicono che c'è un principio di conservazione cioè dire per tornare all'esempio della pallina che scende dalla collina è come dire io prima vado a cercare la legge di gravità che mi dice come la pallina cade e poi eventualmente vado a vedere se esistono dei principi di conservazione che poi è come è stato scoperto la conservazione dell'energia perché il principio di conservazione dell'energia è molto antecedente al teorema di Neder però con questo teorema si capisce che in realtà il ragionamento fra virgolette giusto o comunque è possibile fare anche il ragionamento opposto cioè dire io vado a vedere quali sono le leggi di conservazione cioè quelle quantità che non cambiano mentre un sistema si evolve e da queste cerco di capire come devono essere fatte le leggi che mi dicono come si comporta il sistema ad esempio riprendiamo sempre l'esempio della pallina io prima vado a vedere cerco di capire se l'energia si conserva e una volta che mi rendo conto capisco che l'energia di questo sistema viene conservata allora vado a vedere come deve essere fatta la gravità affinché mi permetta di conservare l'energia questo da un lato dall'altro lato le simmetrie di un sistema e ripeto delle leggi che governano un sistema diventano di fondamentale importanza perché appunto sono queste simmetrie che mi dicono cosa si deve conservare nel sistema e sono questi principi di conservazione che mi dicono quali sono le leggi che regolano lo sviluppo l'evoluzione del mio sistema perciò si comincia ora non più a studiare il sistema in quanto tale cercando di capire quali sono le leggi alla sua base ma si comincia studiando le simmetrie che un sistema ripeto che le leggi che governano un sistema devono soddisfare e poi da queste simmetrie vado a capire quali sono i principi di conservazione che ci stanno sotto e dai principi di conservazione vado a capire come sono fatte le leggi che mi regolano l'evoluzione e il comportamento di questo sistema allora proviamo a capire un po' meglio cosa significa con qualche esempio e partiamo da quelle che io qui ho chiamato simmetrie generali in un sistema fisico che significa che sono qualunque cosa vi venga in mente rispetto a queste simmetrie cioè sono simmetrie che sono rispettate da tutto quello che conosciamo allora la prima simmetria di cui vi parlo io parlo di simmetria qui c'è scritto invarianza sono la stessa cosa quello che dicevamo all'inizio una simmetria è un'invarianza sotto una trasformazione cioè io faccio una trasformazione la mia legge il mio sistema non cambia allora la prima di cui parliamo sono le traslazioni spaziali cosa vuol dire? vuol dire semplicemente che se io mi metto qui costruisco il mio apparato sperimentale faccio l'esperimento ottengo un certo risultato ora se io mi metto qui a fare l'esperimento costruisco l'apparato sperimentale uguale a prima faccio lo stesso esperimento ottengo lo stesso risultato posso mettermi qui posso mettermi in un'altra città posso mettermi in un'altra galassia non cambia nulla in qualunque posto io vado a fare l'esperimento il risultato se l'esperimento è uguale il risultato che ottengo è uguale l'esempio all'inizio se io peso il mio oggetto qui lo peso nella stanza di fianco o lo peso fra sei mesi cioè quando la terra sarà dall'altra parte del sole nella sua orbita ottengo sempre un chilo sempre lo stesso risultato allora il teorema di Nader mi dice che c'è qualcosa che si conserva in conseguenza di questa di questa invarianza per le traslazioni spaziali si conserva quello che si chiama impulso l'impulso è semplicemente o quantità di moto è semplicemente il prodotto della massa di un oggetto per la sua velocità un esempio diciamo per spiegare che cos'è l'impulso è quello di prendiamo due palle da biliardo abbiamo la pallina bianca che si muove che ha una massa m e si muove con una certa velocità v e la pallina gialla che è ferma allora quando la pallina bianca arriva a colpire quella gialla diciamo che quella bianca si ferma allora la pallina gialla comincia a muoversi ma come comincia a muoversi? comincia a muoversi con una certa velocità che è tale per cui il prodotto m per v cioè massa della pallina bianca per velocità della pallina bianca sia uguale al prodotto massa della pallina gialla per velocità della pallina gialla cioè l'impulso m per v che avevo all'inizio è uguale all'impulso m della pallina gialla per v della pallina gialla che ho alla fine non saranno uguali le velocità singole non sono uguali le masse della pallina bianca e della pallina gialla però questo prodotto siamo sicuri di essere uguale cioè si conserva un altro esempio un po' più diciamo non pratico perché lo è anche questo però un altro esempio un po' più forse utile diciamo è quello dei razzi o dei fuochi d'artificio o degli aerei a reazione ad esempio cioè come fa perché un razzo si muove? allora all'inizio consideriamo il razzo ferme sulla piattaforma di lancio è tutto fermo quindi il suo impulso massa per velocità sarà zero perché la massa sarà quello che è però la sua velocità è zero e quindi m per zero fa zero ok se adesso lo accendiamo accendiamo il razzo cosa succede? il motore comincia a bruciare carburante e getta fuori all'indietro del gas allora questo gas ha una certa massa e una certa velocità diretta in questo modo dal motore verso l'esterno se io voglio che siccome l'impulso totale abbiamo detto si deve conservare allora io avrò che anche quando il motore è acceso l'impulso totale deve essere zero ok se io però qui ho massa per velocità diretta in questa direzione l'unico modo per cui l'impulso totale sia zero è che anche il razzo avrà una velocità diretta dalla parte opposta in questo modo se io le sommo si annullano a vicenda e continuerò ad avere l'impulso totale che è zero quindi diciamo in ultima analisi potremmo dire che il motivo per cui un razzo si muove è che diciamo il mio sistema il mio razzo è invariante per traslazioni spaziali che significa semplicemente che se io lo faccio partire qui o lo faccio partire a Cape Canaveral è la stessa cosa il fratello fra virgolette delle traslazioni spaziali sono le rotazioni spaziali cosa significa? un sistema è invariante per rotazioni spaziali quando non so io mi metto qui costruisco il mio apparato sperimentale faccio un esperimento e ottengo un risultato adesso io sto in questo punto però mi giro costruisco il mio apparato sperimentale ruotato di un certo angolo faccio l'esperimento ottengo lo stesso risultato è una cosa se volete molto banale nessuno si è mai preoccupato in che direzione guardava quando pesa la pasta cioè se io guardo a nord o guardo a sud è esattamente la stessa cosa però il fatto che sia la stessa cosa mi dice che si deve conservare una cosa che si chiama momento angolare se volete possiamo dire che è la quantità di rotazione di un corpo cioè particolare se io ho una pallina di massa m che si muove in cerchio il momento angolare sarà il prodotto della massa della pallina per la sua velocità per il raggio della circonferenza che sta su cui sta girando allora un esempio diciamo un esperimento simpatico che si può fare per verificare che effettivamente si conserva questo momento angolare è quello di mettersi su uno sgabello di quelli che ruotano ci si dà una spinta poi magari se uno prende due pesi in mano come questo omino è meglio ci si dà una spinta e si comincia a girare con le braccia aperte allora quando uno gira con le braccia aperte avrà c'è una certa massa m che gira a una certa velocità v qualunque essa sia e poi il raggio della circonferenza è la lunghezza del braccio io giro ok se adesso io chiudo le braccia cosa succede? la massa resta la stessa perché il peso che ho in mano non cambia riduco però molto questo raggio che dalla lunghezza del mio braccio diventa qualche centimetro ma siccome questo prodotto mvr deve essere costante se io riduco r per forza deve aumentare v e infatti se io stringo le braccia comincio a girare molto più velocemente adesso non posso farvelo qui se no muoio però se volete provarci in situazioni sicure potete provarci ad esempio è il modo che hanno i pattinatori per iniziare o finire una piruetta quando un pattinatore vuole fare una piruetta cosa fa? si dà la spinta con le braccia aperte poi le chiude improvvisamente e per lo stesso motivo che dicevamo prima comincia a girare molto velocemente quando vuole fermarsi siccome se prova a fermarsi mentre gira velocemente cade apre improvvisamente le braccia in questo modo diciamo torna alla situazione iniziale aumenta molto r quindi riduce molto v cioè la sua rotazione rallenta molto e lui è in grado di riprendere il controllo allora ok l'ultima simmetria l'ultima invarianza che ho chiamato generale di un sistema è quella delle traslazioni temporali cosa significa? significa semplicemente che come al solito io mi metto qui costruisco un apparato sperimentale faccio un esperimento ottengo un risultato poi faccio lo stesso esperimento domani l'apparato sperimentale è lo stesso stesso posto stessa direzione lo faccio domani ottengo lo stesso risultato visto che sono in vena di esempi banali per non dire peggio se io il pacchetto di pasta da un chilo che compro oggi è un chilo anche domani non è che diminuisce se no lo comprerei giorno per giorno va bene cosa a parte le stupidate cosa cosa ci dice il fatto che se io faccio un esperimento oggi domani fra un mese fra un anno ottengo lo stesso risultato ci dice che si conserva l'energia adesso non vi annoio però è l'esempio di prima abbiamo la pallina con l'energia potenziale cade quindi l'energia che era potenziale pian piano diventa cinetica e alla fine avrà solo l'energia cinetica allora perché vi ho parlato di queste cose intanto per farvi qualche esempio di simmetria e farvi capire che il teorema di Nader non è così banale perché il fatto che che ne so il mio pacchetto di pasta pesa uguale oggi e domani mi dice che l'energia si conserva e non è proprio banale se non ci fosse questo teorema non sarebbe banale da capire e poi vedremo più avanti alla fine che ci tornerà utile sapere quali sono queste queste simmetrie che valgono per tutti i sistemi però per lasciare un po' di suspense prima di di dirvi a cosa ci servono parliamo di un altro tipo di simmetria di invarianze che sono leggermente famose probabilmente solo tra i fisici e sono le invarianze CPT allora qui ho messo che sono tipi di possibile invarianza perché non è mentre quelle di cui vi ho parlato fino ad ora erano sicure invarianze che erano soddisfatte cioè per cui tutti i sistemi che conosciamo sono sono simmetrici sono invarianti queste vedremo che non è detto che sia così però è interessante perché in realtà sono cose che sembra scontato che un sistema sia simmetrico rispetto a queste cose comunque ve le spiego che è meglio la C di CPT sta per coniugazione di carica mi dice che un sistema è invariante sotto coniugazione di carica se io diciamo costruisco il mio apparato sperimentale faccio un esperimento ottengo un risultato se adesso smonto tutto e ricostruisco l'apparato sperimentale scambiando tutte le cariche dove vedo una carica positiva metto una negativa e viceversa rifaccio l'esperimento se io ottengo di nuovo lo stesso risultato allora il sistema è invariante sotto coniugazione di carica allora può sembrare anzi sicuramente non è diciamo banale non è così immediato pensare che un sistema è invariante sotto questa coniugazione di carica se vi fidate vi assicuro che le leggi fisiche sembrano proprio invarianti sotto coniugazione di carica ah una cosa che mi ero scordato cambiare le cariche positive con le cariche negative fra l'altro vuol dire scambiare la materia con l'antimateria allora l'antimateria è un po' la sorella sconosciuta della materia cioè per ogni particella di materia che conosciamo esiste anche se non è intorno a noi ma è stata scoperta negli acceleratori di particelle una particella identica stesse caratteristiche ma con solamente la carica opposta vabbè era in realtà non è importante ai nostri fini però era tanto visto che magari l'antimateria si sente nominare ogni tanto tipo quando al telegiornale ha paura che il CERN distrugga il mondo o cose del genere insomma almeno sapete che non distrugge niente comunque la P di CPT invece sta per parità la parità qui c'è scritto inverte il verso degli assi cartesiani assi spaziali allora cosa vuol dire dire che io faccio il mio esperimento costruisco il solito apparato sperimentale ormai l'ho costruito 20 volte faccio un esperimento e ottengo un risultato se adesso io lo smonto e lo ricostruisco uguale però non proprio uguale tutto quello che prima era a destra io lo metto a sinistra e quello che era a sinistra lo metto a destra quello che era davanti verso di voi lo metto dietro e quello che era dietro lo metto davanti quello che era sopra lo metto sotto quello che era sotto lo metto sopra allora se faccio tutte le cose fatte per bene ad esempio non lo so cambio tutte le viti che hanno filettatura verso destra metto filettatura verso sinistra e tutte queste cosine ottengo un sistema il sistema diciamo sotto trasformazione di parità tanto per capirci è come guardarlo allo specchio se io mi guardo allo specchio la mia mano sinistra per la figura specchiata è la mano destra la parità è la stessa cosa però lo specchio scambia solo destra e sinistra il mio sopra è il sopra della figura allo specchio la parità scambia tutto destra e sinistra sopra sotto avanti indietro allora un sistema potremmo dire in maniera molto così colloquiale che un sistema è invariante sotto parità se quando si guarda allo specchio è sempre se stesso e anche questo sembra una cosa molto sembra normale è il principio per cui abbiamo uno specchio in casa perché se lo specchio non facesse vedere quello che sono io sarebbe abbastanza inutile invece normalmente noi siamo abituati ad avere a che fare con cose che sono diciamo se le guardo specchiate quindi se le guardo sotto trasformazione di parità sono uguali a prima e l'ultima la T di CPT sta per inversione temporale si tratta di scambiare il passato con il futuro che detto così sembra molto apocalittico però in realtà si tratta di è come guardare un film riavvolto riavvolgendo la pellicola allora tutti i sistemi diciamo se io adesso vi proietassi uno spezzone di un film poi ve lo faccio vedere all'indietro penso che tutti sapreste dire qual è il verso giusto insomma questo ci dice che tutte le cose con cui siamo abituati ad avere a che fare sono ben diverse se viste andando diciamo dal passato al futuro o al contrario però se andiamo a vedere le leggi fisiche che le regolano se andiamo a vedere a livello dei singoli atomi vediamo che questi diciamo non c'è un verso se io faccio andare il mio film dal passato al futuro cioè nel verso normale o se lo faccio andare riavvolgendo la pellicola a livello di singoli atomi delle leggi fisiche tutto funziona è uguale per provare a capirlo pensate di nuovo alla pallina alle due palline da biliardo che avevamo prima se io non vi avessi detto che era la pallina bianca che colpiva quella gialla e la gialla cominciava a muoversi ma se io avessi fatto per dire andare questa scena all'indietro c'era la gialla che colpiva la bianca andava tutto bene nessuno si sarebbe accorto che in realtà stavo andando nel verso temporale sbagliato quindi anche questa diciamo è una cosa una trasformazione che sembra diciamo che i fisici si aspettavano fosse rispettata da tutti una simmetria che fosse rispettata da tutti i sistemi come avrete capito siccome io continuo a ripetervi che tutti si aspettavano che fossero che queste simmetrie fossero rispettate ovviamente non lo sono non sono rispettate vabbè questo devo farvela vedere prima comunque infatti nel 1956 viene dimostrato che un certo tipo di particelle non è importante quali siano l'ho messo giusto per completezza si chiamano mesoni K non rispettano nella simmetria C nella simmetria P significa detto ancora in maniera molto così colloquiale che questi mesoni K quando si guardano allo specchio non vedono se stessi cioè mettiamolo un po' più precisa se io faccio un esperimento con i mesoni K e poi faccio lo stesso esperimento però costruito come vi dicevo prima scambiando destra con sinistra sopra con sotto avanti con indietro ottengo dei risultati diversi allora e stessa cosa se lo faccio usando una cosa con le cariche elettriche scambiate allora tutto questo sembrava molto strano anche ai fisici che sono abituati alle cose strane e infatti non non vi credettero cioè l'idea era si sono sbagliati può capitare hanno sbagliato l'esperimento in realtà ci sono state diverse prove sperimentali che invece fosse effettivamente così alla fine anche i fisici si sono dovuti come dire piegare all'evidenza dei fatti sono dovuti convincere che effettivamente queste non erano rispettate va bene allora vabbè non è rispettata la coniugazione di carica non è rispettata la parità magari se le mettiamo insieme sono rispettate perché come avete capito dal fatto che io sto facendo questa conferenza i fisici piacciono le simetrie quindi si cerca sempre di recuperarle c e p non le possiamo usare come simetria vabbè le mettiamo insieme il mio esperimento lo faccio prima scambio destra e sinistra e oltre a scambiare destra e sinistra sopra con sotto avanti con indietro uso anche le cariche elettriche scambiate cioè opposte magari ottengo stavolta davvero una simetria cioè i risultati sono gli stessi per un po' i fisici ci hanno sperato nel 1964 sempre questi maledetti mesoni K è stato dimostrato che violano anche l'unione di queste due allora vabbè tanto una piccola parentesi i mesoni K io perché cito sempre i mesoni K perché sono praticamente le uniche diciamo i mesoni K è un altro tipo di particelle che è stato scoperto negli ultimi anni che sono si chiamano mesoni B ma vabbè non cambia cioè non è importante il nome sono le uniche particelle che non rispettano queste simetrie per dirla con Richard Feynman che è stato un grandissimo fisico diceva sembra quasi come se diciamo la natura avesse voluto introdurre questa imperfezione perché altrimenti se fosse stata così perfetta da rispettare tutte queste simetrie Dio sarebbe stato invidioso per dire che è proprio una cosa marginale però bisogna andare a bisogna avere a che fare con queste violazioni però vi dicevo ai fisici piacciono le simetrie e allora il passo successivo qual è? allora C e P da sole non vanno bene C e P insieme non vanno bene il titolo è invarianza CPT mettiamole insieme l'invarianza CPT cioè l'insieme di queste tre funziona? è una simetria? non lo sappiamo però diciamo scommettiamo di sì per due motivi perché fin dal 1964 cioè appena è stato dimostrato che anche CP non non era una simetria esatta allora si è cominciato a cercare si è supposto lo fosse CPT abbiamo cominciato a cercare le prove di una violazione dell'insieme di queste tre di queste tre invarianze non è ancora stata trovata però ovviamente il fatto che non la troviamo non vuol dire che non esiste potrebbe benissimo esserci in qualche sistema strano una qualche particella che non abbiamo ancora scoperto che viola l'unione di queste tre ma è una prova un indizio a favore del fatto che CPT sia una simetria di tutti i sistemi fisici è un teorema che dice che praticamente che se questa simetria fosse violata sarebbe sbagliata diciamo la fisica degli ultimi cento anni cioè ci sarebbe almeno qualcosa di sbagliato nella meccanica quantistica o nella relatività di Einstein e siccome queste due nei rispettivi ambiti finora hanno dato dei risultati eccellenti per ora i fisici sono abbastanza propensi a credere che la simetria CPT sia rispettata va bene allora adesso vi ho parlato delle simetrie CPT che erano famosissime e quindi conoscevate tutti però non vi ho ancora spiegato cosa vuol dire questa frase che è stato diciamo vi ho detto che è il filo conduttore di questa sera poi non ho più parlato non è stato molto gentile da parte mia però adesso cerchiamo di rimediare allora però non ve lo posso dire subito perché per capire cosa intendeva Steven Weinberg bisogna parlare un po' di fisica moderna allora parliamo di fisica moderna diciamo tutto quello che conosciamo tutti i fenomeni che conosciamo e tutti è fra virgolette perché diciamo negli ultimi anni si è scoperta quella che si sente molto parlare la materia oscura e l'energia oscura oscura sta a dire che noi non sappiamo che cosa sono e siccome non sappiamo che cosa sono non sappiamo se le possiamo spiegare con le diciamo con le leggi che conosciamo magari applicate in modi che non ci sono ancora venuti in mente oppure se c'è bisogno di nuove leggi per descrivere questa queste energie queste componenti oscure dell'universo allora se noi facciamo finta che non esistano possiamo dire questo che c'è scritto qui cioè tutti i fenomeni che conosciamo li possiamo spiegare tramite la gravità e una cosa che si chiama modello standard della fisica delle particelle per fare i precisini cos'è il modello standard il modello standard è una costruzione matematica abbastanza complessa che però ha il grandissimo pregio di avere come ipotesi di partenza solamente il fatto che ciascun sistema debba rispettare quelle tre simmetrie di cui vi parlavo all'inizio cioè il fatto che se io faccio un esperimento qui guardando dritto davanti a me oggi o lo faccio qui guardando il muro domani ottengo lo stesso risultato solito esempio stupido il pacchetto di pasta che peso rimane uguale allora diciamo la conclusione di questa di questa serata sarà descrivere un po' il modello standard cosa dice e soprattutto diciamo questo perché è un bel esempio intanto della potenza delle simmetrie e poi vedremo anche qualche esempio di come le simmetrie hanno aiutato e stanno aiutando i fisici a capire meglio la natura allora basta parlare vediamo cosa dice il modello standard dice ogni modo che ha una simmetria di realizzarsi corrisponde a una diversa particella cosa vuol dire intanto partiamo da inizio cosa vuol dire ogni modo che ha una simmetria per realizzarsi torniamo alla alla farfalla che avevamo all'inizio abbiamo detto questo è un esempio di simmetria assiale c'è quest'asse rosso lungo il quale io posso piegare la figura e ottenere due parti che si sovrappongono perfettamente allora vabbè ovviamente questa diciamo questa è una simmetria esatta perché l'ho fatta con paint normalmente le farfalle non sono perfettamente simmetriche ma per l'amor di precisione comunque però questa non è la simmetria assiale questo è un esempio di simmetria assiale ce ne sono tanti altri guardiamo questa figura c'è quest'asse rosso anche qui se io la piego lungo quest'asse rosso i due triangoli si sovrappongono perfettamente un altro sono queste che sono le chiese gemelle di Roma tutta la parte architettonica è perfettamente simmetrica rispetto a quest'asse rosso che passa per l'obelisco che c'è qui in mezzo allora come vedete la simmetria assiale come concetto diciamo come costruzione matematica ha tanti modi di realizzarsi cioè ci sono tante figure infinite ovviamente che sono diciamo che rispettano la simmetria assiale bene se voi al posto delle parole simmetria assiale sostituite le parole le simmetrie che abbiamo visto all'inizio della conferenza diciamo le simmetrie dello spazio-tempo per essere più precisi ottenete diciamo più o meno quello che prevede il modello standard cioè ci sono tanti modi che hanno queste simmetrie di realizzarsi cioè di essere rispettate e ogni modo diciamo in cui possono essere rispettate corrispondono a diversa particella e così possiamo prevedere le particelle è detta molto semplicemente però adesso vediamo un po' meglio come ci sono arrivate intanto nel allora parliamo di 50 anni fa c'è lo sviluppo di quello che si chiama big science cioè la scienza fatta di macchinari talmente complessi e costosi che un ente di ricerca o uno stato non può permettersi e quindi si cominciano le collaborazioni esempio l'esempio più ricattante è il CER di Ginevra vabbè a parte questo diciamo di fatto la big science fino a poco tempo fa poteva essere sostituita con acceleratori di particelle perché erano questi gli strumenti costosi che dovevano essere costruiti allora cominciano a essere diciamo prima della loro costruzione le particelle che conoscevamo erano poche si potevano contare forse sulle dita di una mano protoni neutroni elettroni che sono le tre che compongono gli atomi qualche altra magari i neutrini i fotoni ma insomma erano veramente poche appena si costruiscono questi acceleratori che sono sempre più potenti cominciano a saltare fuori un centinaio cioè decine e decine di particelle elementari o meglio che sembravano elementari tanto per darvi un'idea le particelle le hanno cominciate a chiamarle siccome i fisici non hanno fantasia cioè non è vero però hanno cominciato a chiamarle con le lettere dell'alfabeto greco hanno finito le lettere e c'erano ancora particelle a cui dare un nome quindi per dievi che ce n'erano veramente tante e sembrava che fossero tutte particelle elementari allora può anche essere però non è molto bello pensare che ci siano 153 particelle elementari per dire soprattutto perché la maggior parte di queste avevano una vita hanno una vita media brevissima cioè in poche frazioni infinitesimali di secondo scomparivano e si ritrasformavano nelle particelle che conosciamo tutti cioè che si conoscevano già all'epoca allora diciamo ai fisici non piaceva questa cosa c'erano troppe particelle elementari ed era troppo difficile ricordarsene tutte quindi bisognava trovare una soluzione ci pensarono nel 1963 Murray-Gellman e George Zweig due fisici che propongono un modello cioè dicono ma se tutte queste particelle elementari non fossero elementari ma fossero formate da dei componenti più piccoli come dire ognuna di queste particelle è una costruzione fatta con il Lego e ognuna di queste appunto è fatta con tanti pezzi diversi più piccoli più fondamentali allora è quello che si chiama forse avete sentito nominare il quark è il modello a quark cioè queste particelle più piccole questi pezzettini di Lego sempre più piccoli sono stati chiamati quark quark è una parola che non vuol dire nulla ma semplicemente a Murray-Gellman piaceva gli piaceva suonava bene secondo lui e ha deciso di chiamare queste particelle quark il senso dell'umorismo dei fisici ha fatto sì che continuassero a chiamarsi quark allora vediamo brevemente come ci sono arrivati tanto per proprio perché è un esempio di ruolo attivo delle simetrie la situazione iniziale che si sono trovate ad affrontare era questa cioè un insieme più o meno disordinato di particelle ognuna con caratteristiche diverse io qui l'ho indicata con un colore diverso per dire che avevano caratteristiche diverse fra loro allora e questi due volevano capire come erano fatte trovare un qualche modo di di saltarci fuori di capirci qualcosa allora la loro idea è stata questa hanno detto vabbè facciamo possiamo fare una cosa diciamo mettiamo su prendiamo due assi mettiamo sull'asse orizzontale che ne so la carica della particella e sull'asse verticale la massa quindi più una particella è carica più la sposto vabbè adesso lo faccio dalla vostra parte più la sposto verso destra più una particella è pesante più la sposto verso l'alto e così riesco a mettere in un grafico tutte le particelle allora loro hanno fatto questo in realtà con due caratteristiche diverse che non sono io ho detto masse carica perché sono le più comuni si chiamano isospine e stranezza ma non conta assolutamente nulla l'importante è che hanno ottenuto una roba del genere che è un po' troppo simmetrica per essere casuale cioè diciamo se voi lanciate per terra sette monetine difficilmente cadranno così cosa vuol dire se queste particelle fossero davvero elementari cioè particelle che non hanno niente a che fare l'una con l'altra non sarebbero tutte messe così se fossero davvero elementari cioè per dire non c'è nessun motivo per cui tutte le particelle elementari devono avere che ne so una carica che è un multiplo di una carica fondamentale per dire di uno no cioè se fossero davvero elementari perché dovrebbero avere carica uno due o meno uno o meno due potrebbero avere uno uno virgola cinque uno virgola tre due qualunque cosa allora la loro idea fu questa dire vabbè magari queste appunto come dicevo all'inizio sono fatte da pezzettini più piccoli allora studiando queste come diciamo la disposizione di queste particelle si possono determinare le caratteristiche di questi pezzettini più piccoli allora faccio un esempio velocissimo perché se no è noioso per dire facciamo finta che questa particella gialla abbia quello che ho chiamato isospin tre due scusate che vale più due questa verde scuro vale zero questa verde chiaro vale meno due l'idea è se queste sono fatte che ne so partiamo dall'esempio più semplice da due pezzi più piccoli fondamentali quali sono le possibilità se questa ha isospin più due avrà due pezzi che hanno isospin più uno ad esempio questa ha due pezzi che hanno isospin meno uno questa ha due pezzi che ha uno che ha isospin più uno uno che ha isospin meno uno se faccio la somma questo fa due questo fa zero questo fa meno due poi c'è questa qua viola diciamo che il suo isospin cade qui a metà quindi avrà isospin uno per dire stranezza che ne so diciamo un mezzo non cambia cioè il valore è proprio arbitrario comunque allora questa sarà fatta da una parte da un chiamiamolo mattoncino di lego più fondamentale così si capisce meglio da un mattoncino che ha isospin più uno e da uno che ha isospin zero se li sommo fa uno e cade qui a metà allora poi ad esempio siccome questo ha due mattoncini che hanno isospin uno e la sua stranezza totale è zero ogni singolo mattoncino ha stranezza zero allora se so che sto diventando noioso ho quasi finito se il mattoncino con isospin uno ha stranezza zero quello con isospin zero deve avere stranezza un mezzo così se li sommo ottengo esattamente questa particella allora potrei andare avanti per molto ma non non è molto interessante questo era per dire che se io studio come sono fatte come sono messe queste particelle capisco come sono fatti i pezzi più fondamentali ok allora io ovviamente ho fatto un esempio facile se no mi perdevo con sette particelle loro avevano a che fare con centinaia decine diciamo perché questo modello è stato sviluppato prima che si scoprissero tutte le altre particelle una buona parte di particelle comunque fa niente alla fine loro sono arrivati a dire questo cioè a spiegare tutte le particelle che si conoscevano con la combinazione di tre particelle più fondamentali che appunto hanno chiamato quark allora il modello a quark è il modello attuale quello alla base del modello standard attuale però è stato un po' ampliato in particolare i quark sono diventati sei e le particelle elementari sono questi sei quark più sei che si chiamano leptoni allora tanto per dirla brevemente i quark sono le particelle socievoli nel senso che i quark non stanno mai da soli cioè si trovano sempre a gruppetti di due o di tre dentro le particelle non si può trovare un quark da solo sono molto socievoli mentre i leptoni sono le particelle solitarie che stanno sempre da sole cioè io non posso trovare due leptoni all'interno della stessa particella ognuno di questi che si chiamano leptoni è una particella a sé stante bene a questi vanno sommati i corrispondenti elementi diciamo le corrispondenti particelle di antimateria semplicemente prendete ciascuno di questi gli cambiate la carica elettrica e ottenete tutte le particelle elementari secondo il modello standard c'è solo una cosa da notare e qua arriviamo a quello che dicevo come le simmetrie stanno influenzando in certo qual modo la ricerca futura allora tutta la materia che noi vediamo intorno tutta la materia che non è prodotta dagli acceleratori di particelle la spieghiamo attraverso con le particelle della prima colonna che si chiama prima generazione le altre due sono i cugini pesanti cosa vuol dire tutte queste particelle queste otto hanno le stesse identiche caratteristiche delle prime ma solo sono molto molto più pesanti allora questo ci fa dire due cose prima di tutto che siccome noi non sappiamo perché visto che noi cioè se uno avesse dovuto inventarle inventava la prima colonna e aveva già spiegato tutto era arrivato siccome però noi abbiamo trovato che esiste la seconda colonna e la terza colonna e non sappiamo spiegare perché questo vuol dire che potrebbe esistere una quarta una quinta una sesta e così via colonna che noi però non riusciamo ancora a produrre perché non abbiamo abbastanza energia e poi ci dice un'altra cosa come nello schema di prima era troppo lo schema di prima era troppo simmetrico per essere fatto di particelle elementari cioè il fatto che fossero disposti in maniera così ordinata ci diceva che probabilmente ed è così c'era una struttura più profonda il fatto che anche qui siano molto ordinati cioè siano praticamente uguali ma solo più pesanti ci dice che probabilmente anche queste hanno a loro volta una struttura più profonda cioè non sono i quark ad essere i mattoncini fondamentali ma c'è qualcosa ancora al di sotto questo qualcosa viene chiamato preone o preoni e sono diciamo le teorie che si stanno studiando si stanno cercando adesso non c'è ancora una teoria soddisfacente cioè una teoria che spieghi bene cosa sono i preoni come agiscono come si comportano e così via però è quello che stiamo cercando allora va bene io vi ho parlato per concludere vi prometto che sono le ultime tre slide allora io vi ho parlato di cosa è fatta la materia beh sono un po' più di tre le slide però vabbè di che cosa è fatta la materia non vi ho detto come cosa sono come sono fatte le forze cioè come ok c'è la materia ma la materia interagisce con l'altra materia allora ancora una volta tutti fra virgolette i fenomeni che conosciamo e questo tutti è sempre dovuto alla componente oscura dell'universo le possiamo spiegare tramite quattro interazioni allora interazioni è un modo un po' più elaborato di dire forze siccome le forze quando andiamo nell'infinitamente piccolo perdono un po' di significato le chiamiamo interazioni pensatele come ad esempio la forza di gravità è l'interazione gravitazionale la forza elettrica la chiameremo interazione elettromagnetica per la precisione e così via va bene quali sono ve l'ho anticipato sono l'interazione gravitazionale cioè quella che ci dice che due corpi che hanno solo per il fatto di avere un certo peso cioè una certa massa vengono attratti fra di loro ed è da una parte ad esempio quella responsabile del peso dei corpi il peso di un corpo non è altro che la trazione gravitazionale fra il corpo stesso e la Terra ma anche regolano diciamo il moto dei pianeti intorno al Sole perché la trazione gravitazionale del Sole fa sì che i pianeti gli ruotino intorno in generale la gravità è quella che regola tutte le l'evoluzione dell'universo su grande scala grande scala vuol dire cioè già la scala di un uomo però quella dell'uomo in poi è la gravità che la fa da padrona nonostante sia la più debole delle quattro interazioni fondamentali la seconda è l'interazione elettromagnetica cioè quella che diciamo dipende dalla carica elettrica dei corpi ci dice che se io ho due corpi diciamo la frase famosa è cariche uguali si respingono cariche opposte si attraggono ad esempio qui ho fatto giusto qualche esempio la calamita che attira i pezzi di ferro è un esempio di interazione elettromagnetica i fulmini durante i temporali sono un esempio le aurore boreali sono un altro esempio e per andare un po' più sul pratico gli elettrodomestici funzionano perché grazie alle leggi dell'elettromagnetismo cioè l'elettricità e va bene queste sono le due famose le due un po' meno famose sono diciamo la prima che vi presento è l'interazione forte allora l'interazione elettromagnetica ci dice una cosa ci dice che le cariche uguali si respingono allora il nucleo di un atomo è fatto con tante cariche uguali i protoni allora se non ci fosse diciamo quando non si conosceva l'interazione forte ci si chiedeva io ho tante cariche uguali tutte vicine perché non si respingono allora i fisici non hanno saputo spiegarlo se non dicendo deve esserci qualcosa che io chiamo interazione forte che fa da colla cioè semplicemente è qualcosa appunto di più forte dell'elettromagnetismo e che tende a tenere insieme i nuclei degli atomi quindi è qualcosa che fa attirare fra loro i componenti degli atomi e vince sull'elettromagnetismo proprio perché è un'interazione forte quindi vince ora la domanda è se i nuclei degli atomi tutti i componenti degli atomi si attirano fra di loro perché io non vengo attirato dal muro e mi ritrovo spiaccicato di contro perché è un'interazione che si dice a corto raggio cioè avviene solo a distanze piccolissime dell'ordine degli atomi va bene non mi dilungo su questa perché insomma era tanto per presentarvela e l'ultima che vi presento è l'interazione debole anche perché poi sono finite comunque l'interazione debole anche questa nasce perché i fisici non sanno spiegare qualcosa stranamente e quindi nasce l'interazione debole cioè più che altro ci si è accorti che ogni tanto succedeva quello che si chiama decadimento beta- significa semplicemente che un neutrone che è una particella neutra che si trova nel nucleo degli atomi si trasforma in un protone che è un'altra particella un elettrone e un antineutrino che è un neutrino di antimateria siccome però le tre interazioni che si conoscevano che erano le tre precedenti non diciamo agivano sulla materia ma non la trasformavano abbiamo dovuto inventarci qualcosa che la trasformasse cioè qui parto da un neutrone che è fatto da tre quark e ottengo tre quark più un neutrone più un neutrino quindi ho bisogno di qualcosa che da una parte mi trasformi in mattoncini fondamentali cioè i quark in altri diversi e in più che mi crei diciamo questi mattoncini fondamentali come dire io parto da tre mattoncini di lego uno giallo uno rossi uno verde ne ottengo uno blu uno rosa uno viola e poi altri due così ok non sapevamo come spiegarla ed è nata scusate ci sono l'interazione è debole anche qui mi soffermo poco vi dico solamente che anche questa ha un cortissimo raggio d'azione ed è per questo che non la sentiamo non non ne sentiamo gli effetti ed è molto lenta va bene giusto questo per completezza per completare diciamo il discorso sul modello standard cioè come spiega il modello standard queste quattro interazioni le spiega così le spiega con quelle che si chiamano particelle mediatrici l'idea è abbastanza semplice prendiamo il caso di due elettroni che si si devono comunicare fra loro devono interagire come fanno si comportano come due persone che vivono in città diverse e possono comunicare solo per lettera quindi si scrivono delle lettere le particelle mediatrici sono i postini cioè sono particelle che vanno da per dire un elettrone ma va bene qualunque particella ad un'altra scambiando queste informazioni queste lettere e più velocemente vengono scambiate queste particelle più forte è l'interazione fra le due per capirlo esempio banale più i due elettroni sono vicini meno sarà la distanza che devono percorrere queste particelle mediatrici quindi più velocemente faranno ad andare e tornare quindi a scambiare le lettere quindi più sono vicini più questi due elettroni tendono ad avere un'interazione intensa che significa a respingersi in maniera più intensa come allora esistono le particelle mediatrici per l'interazione elettromagnetica il fotone l'interazione forte che si chiama gluone e l'interazione debole che sono i bosoni W e Z vabbè nomi come vi dicevo all'inizio la gravità non riusciamo ancora a spiegarla in questi termini però ci si sta provando e la prova più banale diciamo il tentativo più banale è quello di dire vabbè io ho le particelle mediatrici ah vi devo spiegare questo come giocatore di basket se no pensate sia pazzo l'esempio che mi sono dimenticato era è come se due giocatori di basket si lanciassero la palla e più velocemente si lanciano la palla più sono attirati fra loro o respinti alla stessa cosa ok dicevamo la gravità ad esempio la cosa più banale da dire è vabbè esiste il fotone il gluone i bosoni W e Z magari esiste il gravitone cioè la particella mediatrice della gravità magari sì non è ancora stata trovata però è uno dei tentativi di unificazione cioè di mettere la gravità nel modello standard allora riassumendo quello che ho detto tutte allora tutta è di nuovo fra virgolette facciamo così allora per un attimo non pensate alla materia oscura e all'energia oscura non vale voi pensate a una qualunque cosa qualunque cosa vi venga in mente bene i fisici sanno spiegarla tramite le particelle che ci sono in questo schema più la gravità che ancora non riusciamo a mettere in questo schema e la cosa importante è che tutto questo schema tutto questo discorso sulle particelle su come sono fatte su quali sono i pezzi fondamentali su come agiscono le interazioni tutto questo discende da quello che dicevamo all'inizio cioè che se io faccio un esperimento qui oggi guardando dritto davanti a me o se lo faccio qui domani guardando il muro ottengo lo stesso risultato è questa la connessione incredibile che ci dice il teorema di Noether una stupidata come pesare la pasta qui oggi guardando dritto davanti a me o pesarla qui domani guardando il muro mi permette di capire come è fatto l'universo quali sono le particelle e le forze quasi tutte che formano l'universo ed è questo il senso profondo ed è quello che voleva dire Steven Weinberg è questo il senso profondo della frase con cui oggi ho iniziato e ho finito la mia conferenza grazie grazie mille ad Enrico per questa bellissima lezione sulle simmetrie se adesso qualcuno ha qualche domanda da fare credo che lui sia disponibile ok allora io ho volutamente fatto finta di nulla nel senso che il modello standard oltre a non avere all'interno la gravità ha un altro problema non predice la massa delle particelle cioè tutte queste particelle elementari e tutte le particelle che formano mettendosi insieme sono senza massa o comunque il modello standard non è che sono senza massa però il modello standard non riesce a prevedere quale sarà la loro massa bisogna bisogna prenderla per buona cioè dire io non so qual è la loro massa faccio un esperimento e il risultato mi darà la loro massa allora siccome ai fisici non sapere le cose non piace molto si è inventato un modello che è appunto il modello di Higgs che cerca di spiegare come queste particelle hanno una massa l'idea diciamo la possiamo vedere in questo modo c'è una cosa che si chiama campo di Higgs che è vediamola come un mare che riempie tutto l'universo allora le particelle devono siccome questo mare riempie tutto l'universo le particelle devono attraversarlo mentre lo attraversano vengono rallentate però vengono rallentate in maniera diversa per dire se io provo a trascinare un pallone in mare se io trascino una pallina piccola ce la faccio benissimo se io devo trascinare un pallone da spiaggia grosso così faccio molta più fatica a trascinarlo diciamo farlo scorrere nell'acqua per le particelle succede più o meno la stessa cosa a seconda di come sono fatte cambia il modo in cui vengono rallentate da questo mare fra virgolette che è il campo di Higgs ma siccome in fisica essere rallentati o diciamo avere massa sono la stessa cosa come facciamo a capirlo diciamo se io provo a spingere un'automobile senza nessuno a bordo o provo a spingere un'automobile con cinque persone sopra perché l'automobile ammesso che io ce la faccia perché l'automobile si muove molto più lentamente quando ci sono le persone sopra perché la massa dell'automobile è molto più grande quindi viene diciamo l'effetto della mia forza è molto minore cioè viene rallentata molto di più dalla massa delle persone a bordo per le particelle è la stessa cosa diciamo in realtà è l'effetto contrario le particelle vengono rallentate da questo campo di Higgs cioè da questo mare e quindi acquisiscono una massa il campo di Higgs quindi giustamente non ho ancora nominato il bosone di Higgs il bosone di Higgs è il postino fra il campo di Higgs e le particelle cioè come vi dicevo prima due particelle per interagire fra loro si scambiano queste lettere tramite quelle che io ho chiamato particelle mediatrici , così le particelle scambia informazione interagisce con il campo di Higgs cioè con questo mare scambiandosi quello che si chiama bosone di Higgs allora perché uno dice beh perché abbiamo cercato il bosone di Higgs e non il campo di Higgs è molto più facile il campo di Higgs è ovunque non c'era bisogno di fare chissà quali sforzi il problema è che appunto noi non riusciamo a vedere a percepire il campo di Higgs noi possiamo sentire gli effetti cioè abbiamo massa però il fatto di avere massa non ci dice che la teoria che ha sviluppato Peter Higgs era corretta e allora abbiamo dovuto cercare i postini il problema cioè il fatto che abbiamo messo così tanto a trovare i postini è che questi postini sono postini pesanti e pesanti in fisica vuol dire che io ho bisogno di un'energia molto alta per trovarli e quindi abbiamo dovuto aspettare di poter arrivare ad energie sufficientemente alte per trovarli mi sono dilungato troppo quindi se sei soddisfatta mi interrompo qui se avete altre domande prego sì ma diciamo qualcuno c'è sicuro c'è sempre un oppositore però le critiche che vengono mosse al modello standard più che altro sono da una parte il fatto che non spieghi ad esempio la gravità quello che dicevo prima e che non intanto il modello standard è una teoria che comincia a essere abbastanza datata nel senso non così nuova da essere soggetta a critiche su critiche nel senso che è una teoria comunque di 50 anni fa circa perciò siccome in questi 50 anni ha avuto riscontri sperimentali molto molto buoni tutto sommato le critiche sono diciamo abbastanza limitate di sicuro ce ne sono per due motivi non descrive la gravità ultimamente la critica non descrive non si riesce a capire che cos'è l'energia e la materia oscura però diciamo che siccome nessuno ci riesce vabbè è una critica ma conta fino a domani e poi l'altra l'altra cosa è che alcuni dicono sia una teoria abbastanza come dire poco elegante ai fisici piace anche l'eleganza insieme alle simmetrie è una teoria che sembra molto tanti pezzi diversi appiccicati con la colla cioè messi insieme così un po' a caso e quindi alcuni dicono beh ok tu hai messo insieme tanti pezzi messi così però non è detto che cioè funziona ok funziona però non è detto che sia proprio la spiegazione vera esempio stupido visto che stasera sono in vena se tu per fare un puzzle attacchi i pezzi con la colla alla fine hai un puzzle completo però non è proprio il modo giusto di fare un puzzle quindi diciamo le critiche sono più che altro queste poi insomma ultimamente diciamo negli ultimi anni c'è stata anche varie altre teorie più che altro più profonde in realtà che puntavano non tanto a contraddire il modello standard ma a superarlo cioè spiegarlo in maniera diversa e spiegare di più fra cui insomma tante cose la teoria delle stringhe è la più famosa ma ce ne sono tante dimmi prego e ho paura e ho paura di grandi il problema il problema del problema del problema del problema del problema è quello che non si riesce a robare il graditore del lettore di internazioni e della tradizionale ma ci sono comunque anni che restando la sua moda del modello standard dei metodi per trattare il contenuto del problema allora è una bella bellissima domanda mettiamola così io ammetto la mia ignoranza nel senso che io mi sono imbarcato in questa cosa perché sono affascinato dalle simmetrie dal teorema di Neder per quanto ne so io no nel senso che diciamo tutto sommato la gravità a livello quantistico diciamo non ha ancora una teoria ben definita però diciamo sono un po' meno sicuro che sulle domande precedenti per quel che ne so io ti direi di no nel senso che va aggiunta in maniera posticcia cioè da una parte ho il modello standard da quell'altra ho la gravità fondamentalmente la relatività generale dopodiché modi per metterli insieme diciamo coerenti in tutti gli ambiti io credo non ce ne siano probabilmente in ambiti limitati ci sono in coerenti in tutti gli ambiti non so io non ne conosco cioè so di tentativi a partire dalla teoria delle string che è la più famosa passando quella che si chiama gravità loop ma anche i preoni che dicevo prima potrebbero essere un altro modo però qualcosa sì per quel che ne so direi di sì qualche altra domanda bene se non ci sono altre domande vi ricordo l'appuntamento di mercoledì prossimo con i numeri di Fibonacci sul nostro blog trovate l'audio intervista ai relatori ringrazio ancora Enrico per la conferenza e buona serata a tutti grazie grazie Grazie.